Eccomi qua, Pietro Battista Daniele, allenatore della Time Sport Roma Garbatella, categoria 2004, giovanissimi regionali. È la prima volta che partecipiamo a questo torneo e devo dire che l'accoglienza è stata strepitosa e funzionale da parte del centro eventi. La struttura ricettiva ci ha trovato e ci ha reso veramente molto soddisfatti ed ora andremo avanti per quel che riguarda i risultati delle gare. Andremo a giocare a ore 14.30 allo stadio dell'Avastese, allo stadio Aragona, al comunale di Vasto e speriamo che tutto fili liscio come è andato benissimo fino adesso.